No, sinceramente Giorgia in questo momento è impegnata a lavorare per l'Italia, a lavorare per la responsabilità che gli italiani le hanno attribuito e quindi al momento non avrebbe avuto nemmeno niente di concreto probabilmente da proporre alla stampa. Ma comunque noi da sempre abbiamo attenzione ai movimenti giovanili anche perché la nostra formazione, la nostra scuola principale, la nostra palestra politica è quella, quasi tutta la classe dirigente Fratelli Italia ha un'esperienza precedente nei movimenti giovanili.